E' la sedia della serie Rose dei Venti, opera del maestro Mario Celoli. E' una sedia Rose dei Venti, è stata realizzata nel 1974. Questa sedia è particolare perché è stata realizzata apposta per la casa di un collezionista, pubblicata appunto in questo catalogo della Nanda Vigo. Questa è la casa, chiamata Interno Blu, è il libro che è recentemente stato editato da Nanda Vigo. Questa è la casa di questo collezionista, signor Spaggiari, e questa è la zona pranzo. E apposta per la zona pranzo, la Nanda Vigo ha fatto realizzare al maestro Mario Celoli le sedie per la zona pranzo. E questa è una di quelle sedie. E il tutto è appunto dichiarato nell'autentica, dove c'è scritto che il maestro dichiara che è stata fatta nel 1972 questa sedia di 2 metri per 49 per 52, è stata fatta apposta per appunto il signor Spaggiari. E le differenze, questa è una invece di quelle sedie realizzate da Poltronova, la differenza di quelle seriali di Poltronova è questa, cioè come vedete è totalmente differente rispetto a questa realizzata proprio per la casa di questo collezionista. Mario Celoli, sedia del 72, rosa dei 20.